Ciao a tutti ragazzi, io sono Kendal, il vostro imperatore E bentornati finalmente in un nuovissimo video della ModCraft La serie più bella del mondo? Sì Quest'oggi abbiamo tantissime probabilità di ottenere finalmente la spada che stiamo cercando Quindi questa, ovvero la Righteous Relic Che ci servirà per craftare la spada ultra leggendaria, ovvero la Sunfire Una spada che fa tantissimo danno e ci permetterà probabilmente di uccidere il Fallen Icon L'unico boss che fino ad ora mi ha dato veramente filo da torcere Come vedete ho la bellezza di altri 9 tablet runici che sono pochissimi però ci proviamo ragazzi Quindi prendiamo adesso l'Handstone, i Chorus Fruit ce l'abbiamo, facciamo la nostra galena E speriamo di ottenere la spada mitica Ok, quindi ne abbiamo altri 20 Prima devo riparare questa con un tablet runico Se no non me la fa riforgiare E quindi abbiamo la bellezza di 8 tentativi Beh, considerando che fino ad ora ci è andata veramente malissimo Mi auguro che adesso esca Ok, epica, 12,9 d'attacco Rara, fa schifo Rara, fa schifo Rara, fa schifo Oh, ok! Ci fermiamo, ci fermiamo Leggendaria 12 di attacco 15% di colpi critici Non male Sicuramente non vado a riforgiarla con solo 3 tablet runici Perché ho detto in inizio video che probabilmente quest'oggi riusciremo a craftare la nuova spada? Perché mi sono studiato bene dove si ottiene questa La spada leggendaria Righteous Relic Che come ben sapete fa parte di queste spade E io ne ho già due Ci abbiamo questa e ci abbiamo questa A noi serve questa, la Dormant Relic Che con questo crafting si trasforma in Righteous Relic E con quest'altro crafting si trasforma in Sunfire So che c'è il 50% di probabilità di ottenerla uccidendo l'Ender Dragon Ma il combattimento è troppo lungo Non ne vale la pena Quindi... Quello che ci conviene fare è cercarla nei loot delle chest E mi sono studiato questi Repurposed Structure Perché a quanto pare queste chest si trovano in tutte le strutture vanilla di Minecraft Però modificate Quindi se vi ricordate ad esempio avevamo trovato ecco qua appunto questa piramide Potrebbe contenere una di quelle chest E allora miei cari ragazzi andiamo a esplorarla E ovviamente non solo la piramide Ma ad esempio anche il Tempio della Giungla La Magione Tutte quelle strutture vanilla di Minecraft Che però sono modificate con la mod Allora io tuttora non riesco a capire questo rompicapo per accedere alle chest Però così se non altro abbiamo spawnato dei mostri Che un tempo mi davano filo da torcere E adesso me li mangio a colazione Cioè vedi sembra tipo una specie di... Oh oh porca miseria Sembra una specie di gioco Devo capire la combinazione esatta per accedere alle chest Oppure come ho fatto in passato Mi basterà scavare sottoterra ad altezza chest Per prenderle senza avere l'incantesimo di Mining Fatigue Quindi scava, 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 scava Ancora, 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 ancora E secondo me dovrebbe andare più che bene qua Quindi mi basta continuare a scavare così E prima o poi arriveremo alla stanza delle chest Purtroppo queste spade leggendarie come potete ben vedere Si trovano soltanto in questo modo Quindi sono piuttosto rare Il che ovviamente ha perfettamente senso No ma qua c'è... Oh ok Non ci credo Preciso Ok aspetta Togliamo adesso Vabbè Ok chi se ne frega Mi ha dato la maledizione Quindi non posso più togliere nulla Ok tablet runico Questo mi fa già presagire bene Perché si può trovare soltanto Nelle chest che ti droppano anche la spada Quindi ottimo Qua cosa ci abbiamo? Ehm... Smitting template Occhio Non mi serve a nulla Mela d'oro E infine Niente Ma questa è soltanto Una delle strutture Che andremo a visitare Allora in teoria Qua da qualche parte C'era anche una giungla Anzi no Era nella mia vecchia casa Quindi qua c'è la caverna arcobaleno La mia casa si trovava Più o meno qua E se non mi ricordo male Da questa parte Esatto Qui Ci abbiamo un altro tempio E anche in questo tempio Facendo parte delle strutture vanilla Potrei trovare la spada Soltanto che c'ho ancora la fatica del minatore Quindi dobbiamo aspettare Mazza ragazzi Vi rendete conto di quanto è rara Oh Ok un po' troppi silverfish Forse per i miei gusti Morite prima che vi farmo tutti Allora no Questa l'avevamo già aperta in realtà Però fammi controllare Perché non si sa mai Metti che l'avevo trovato la spada E poi non l'ho presa Ok Qua c'era la trappola Me lo ricordo Quindi fammi rifarmare un attimino va Sono tutti livelli in più Ok quindi qua c'eravamo stati al 100% Ma in questa giungla Se non mi ricordo male Ci sono ancora tantissimi altri Piccoli tempietti Facciamo un parkour Nessun problema Non è un ostacolo per me E continuiamo a scendere Ripeto ragazzi È possibile che io in passato Abbia lasciato qualcosa nelle ceste Che adesso magari mi serve Ricordatevi che io non conoscevo bene la modcraft al tempo Adesso sì Questa è vuota Ok Credo che non ci sia altro Probabilmente abbiamo esplorato tutta la struttura Ma qua ce n'è un'altra Quindi controlliamo anche questa Oh ci sono delle trappole Eccoci qua Nuove chest Bene Esattamente quello che serve a me Vabbè diamanti No in realtà non mi servono nulla Li lasciamo qua Però più chest troviamo E più chance abbiamo di ottenere la spada Qua ce n'è un altro ancora Quindi controlliamolo E qua ce n'è uno gigante Beh insomma avete capito Devo assolutamente esplorare tutte queste strutture E il bello è che anche se dovessi trovare la cesta giusta Non è mica detto che poi ci trovo la spada che serve a me Perché sono tante Oh tu sei forte eh Se reggi così tanti colpi della mia spada leggendaria Ammazza oh E qua ci sono tutte chest inutili Sotto c'è qualcos'altro C'è un altro piano Direi di no Quindi usciamo Cos'è quello? Ah Ok Uh no non ci credo Era nascosta qua Maledetto Ok però niente di utile Sì ma sta giungla è piena di strutture Quindi chissà quante c'è sto lasciato indietro Ecco guarda 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 Niente niente Troppo rara È troppo rara Però mi serve ragazzi Mi serve Col cavolo se no che lo batto il folle Nikon Questo l'ho già esplorato A giudicare da sto buco direi proprio di sì Niente niente Ok Oh bello sto tempio dell'Axolotl Ho come l'impressione di Non ci posso credere Dai Veramente Questa è una di quelle armi Guardate 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 ragazzi Non ci posso credere Quindi qua potenzialmente l'avremmo potuta trovare Eh però allora mi conviene esplorare per bene Perché ce ne sono ancora tante di chest qua Non me ne posso andare La mia spada Potrebbe essere qua Ma forse lì ci ho trovato una spada Perché era tipo un armaiolo Eh lupo mannaro Quanto sei forte Oh oh Ok Due colpi Tre colpi No non mi sembra forte dai Muori 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 e muori Ok allora sto villaggio Top Perché effettivamente qua Possiamo trovare quello che ci serve Soltanto che credo di averlo esplorato tutto E che problema c'è Mi basterà andare in un'altra foresta Quindi comunque avete capito Dove posso trovare queste armi Perché è pieno di lupi mannari Scusa Cioè non vi avevo mai visto fino ad ora E adesso ne trovo due di fila Ma muori In teoria si dovrebbero trovare anche nelle mineshaft Wow Ma queste sono le mucche Le mu bloom Quelle di minecraft earth Che figo Non pensavo che ci fossero anche qua Cosa sei tu Com'è possibile che sto vedendo mostri Che non avevo mai visto È un orco Muori Cosa mi droppi Pelle di orco Inutile Eh scusate Sta pioggia finirà a un certo punto Sta perseguitando In quella struttura Non credo di poterci trovare nulla Però siamo vicini a un deserto Quindi magari Trovo un'altra piramide Oh certo che le potevano rendere Un pochettino più rare Se spade eh E come cavolo ho fatto Trovare questa subito Nei primi episodi Pazzesco Oh oh Questo è un altro rituale È il coso che si apre vero Sì Ossuari Che cosa cavolo ci devo mettere dentro Non l'ho mai capito Ma non mi interessa Ah tra l'altro Mi avete detto che ho Ecco qua C'ho delle notifiche nelle missioni Perché ho finito un botto di missioni Non ho mai preso le ricompense Vabbè Principalmente è exp Però Prendiamola perché no Lingotti Cos'è questo Quicksilver bullet Addirittura i proiettili Se non dovessi riuscire a trovare Delle altre strutture Vado direttamente In una mineshaft Perché in teoria Si trovano anche là Lo sto cercando da tre settimane Sta cosa è fuori di testa Fammi vedere magari qua No Qua sotto c'è qualcosa Chest Oh mamma Per un attimo ragazzi Vi giuro per un attimo Ho pensato fosse quella che cercavo io Perché c'è una spada in oro lì Schifosa Oh secondo me lassù qualcosa c'è Allora ci stiamo addentrando in una dark oak forest Quindi potremmo trovare anche una magione La magione fa parte di quelle strutture che servono a me Cos'è Oh ok anche quella potrebbe È un tempio di legno E là sotto c'è anche una casetta Ah fammi vedere fammi vedere fammi vedere Se sono fortunato Rompi qua Togli le trappole Ehi Ve le fai togliere per favore Vabbè ho capito Le tolgo così allora Bene Allora questo in teoria dovrebbe essere quel dungeon a più livelli Buttati Che morbido Ti prego ti prego ti prego ti prego Ok questo non fa parte delle spade leggendarie Però se non altro ci sono dei bei loot qua dentro forse Fammi vedere Me l'adoro Spada arcana Con Aspetta sbaglio Questo era un template di Topazio Esatto E qua invece ci abbiamo Un altro template di Topazio Guarda quanta TNT Oh una vita per trovarlo il template di Topazio E adesso lo trovo ovunque Vogliamo scommettere che dopo che troverò la spada La troverò ovunque E certo e quando mai La mia solita fortuna Allora lì in fondo in teoria c'è un'altra casetta Magari c'è qualcosa in quel villaggio Potrebbe essere interessante Gli darei un'occhiata Salve Vi disturbo giusto un attimo Per controllare se avete dei tesori Così ve li rubo Non ci posso credere Un'altra Quindi si trovano anche nelle case di villaggi Questa è un'altra spada leggendaria Long Sword of the Plague Guardate 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 E' questa E' questa Ma a me non serve questa A me serve quella subito dopo Quella sotto Questa qui Vabbè dai Le prendo Perché non si sa mai Che vuoi tu Togliti Ok Quindi Dobbiamo aprire anche le ceste dei villaggi Perché potrebbero contenere quello che ci serve Qua mi sa che ce n'è un'altra Fammi vedere Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ovviamente no Beh ragazzi Perché va a fortuna Sono delle spade rare Giustamente Non è facile trovarle Se avete dei consigli Comunque Su come trovarla più facilmente Mi raccomando Scriveteli nei commenti No E' un'altra Vedete Quando c'è il tag Simpli swords Lì sotto in basso Fa parte Della categoria delle spade Che sto cercando io Ok 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 Siamo sempre più vicini A trovarla No Quindi si può trovare anche nei villaggi Buono sapersi Pensavo solo nelle strutture dungeon Ma ormai qua credo di averle aperte tutte No Niente È permesso Si può Tu sei povero Non hai niente Tu ce l'hai ma non hai nulla Sto morendo di fame Ok restano le ultime due casette Niente Eee Niente Fantastico Questa cos'è? Oh È una torre Eee C'è qualcosa? Chest Molto molto bene Vuote? Perché sono vuote Se io non ci sono mai stato qua? What? Ah Ma è il coso dei pillager Vabbè Allora Non mi interessa Altra chest Nulla di utile Perché ho l'impressione che questa sia una trappola No Beh anche con i tablet unici In realtà ci sta andando malissimo Uno Che bello Non pensavo ci fossero i serpenti Eee Questa che cos'è? Sembra tipo una chiesa Di silverfish È certo Però chest Con un bellissimo Il metto in ferro Ma non ci serve E anche questa roba Non ci serve Saremo più fortunati al piano di sopra? No Prima o poi la troverò ragazzi Prima o poi La troverò L'unica cosa che spero È di non averla già trovata in passato E magari l'ho lasciata in qualche chest Spero proprio di no Perché altrimenti Mi mangerei le mani Però comunque Questa zona sembra bella Piena di dungeon E di villaggi Quindi Continuiamo ad esplorarla Ecco Quando dico Questa zona sembra piena di villaggi Arriva l'oceano Bene Abbiamo camminato un bel po' Proviamo a cambiare zona Anche qua Come vedete C'è un mini villaggetto Ma credo che questo sia senza chest Eeeh Già Oh 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 Aspetta Niente Un lingotto Qua Eh Anche questa fa parte Delle simple swords Bene Se non altro ragazzi Ci stiamo avvicinando Sempre di più Alla soluzione Prima o poi Dovremmo trovarla Anche questo è un villaggio interessante Comunque È letteralmente La spada più rara Del pacchetto Mi basta pensare Che è così difficile da trovare E non solo Ha anche bisogno Di tre crafting Prima devi trovare questa Poi la crafti così E ottieni questa E poi da questa Devi fare un altro giro Di crafting Per avere questa Follia Ormai la starò cercando Da più di 24 ore In totale Se ci pensate Più o meno si Oh oh Che succede qua Ma vediamo 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 Altro villaggio Altre chance di trovarla Permesso Pane E vino No Una gioia Dammi una gioia Comunque ragazzi Se non dovessi riuscire a trovarla Vorrei provare ad affrontare Di nuovo Il folle Nikon Però stavolta Con la mia nuova spada Perché in teoria Questa è comunque Molto forte E molto veloce Non è paragonabile Alla Sunfire Che voglio fare Però diciamo Che tentare Non nuoce No Nel mio caso Nuoce Come Perché ci morirei Però adesso C'ho le pozioni Di forza Quindi Tutto sommato No comunque In sto villaggio Non c'è praticamente Niente Quelli di prima Erano molto più fortunati Qua Potrei trovare qualcosa Ah queste sono le isole volanti Beh effettivamente Qua non ho mai controllato Non si direbbe Che ci sia qualcosa Però Diamo gli comunque Un occhio Bellissime Tra l'altro Veramente Veramente belle Ok ma direi Nulla di utile Se mi butto qua Muoio O resisto Secondo me resisto Porca miseria Sono rischiato Cioè sono rimasto Un cuore Beh c'è da dire Che mi sono buttato Da un punto Che neanche riesco a vedere Oh mamma mia Ok 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 Forse non devo fare Così tanto il gradasso Ho rischiato di morire Qua c'è qualcosa Salve permesso Si può Dai mi fai entrare Maledetto No Forse è il pieno Di sopra No Qui c'è una ceste No Ok è inutile Quindi sta casa Così sembra Ma che strano Perché questo qua Non è innevato E tutto il resto Si Oh altra struttura Vediamo un po' Tante ceste Ti prego non dirmi Che sono tutte Quante ceste contadine Per favore No Questa è la mia vecchia casa Questa è la mia vecchia casa Si E qua ci sono i tablet runici Me lo ricordo Aspetta Conduit ruin map Ah chi se ne frega Beh se non altro ragazzi In questo modo State imparando anche voi A conoscere sempre di più La modcraft Scusa bro Ti rompo un attimo il muro Se non ti dispiace Così prendi un po' d'aria Ecco E questo Uuuuh No qua non c'è nulla Sicuramente Questo però è interessante Cos'è? Ah è la torre Ma sbaglio O da quando ho preso danno Non ho più rigenerato la vita In questa torre Se non mi ricordo male Non c'è niente A parte gli spawner Meno uno Meno due Oh ceste Niente Quante ceste ho aperto esattamente Ne avrò aperte Cento Probabilmente si La caccia continua Altro villaggio Stavolta villaggio della neve Niente Niente Oh oh Questa È la casa del fabbro Quindi magari Magari niente Un'altra casa del fabbro Cos'è? Zainetto Peccato che io ce l'abbia già Questa? Ah Qua ci sono già stato però Ok Magione Mi sa che l'ho già visitata No 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 O meglio Ne avevo già trovata una Però Oh sì È questa Sì Ci sono già stato qua Porca miseria Ma quanto ho esplorato Sono stato ovunque Vuoi però che non ci sia qualche ceste che non ho preso Dai sicuro Ecco infatti Ok 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 Quindi abbiamo ancora delle chance Più o meno Ecco un'altra ceste Niente Che vuoi tu ma sei scema Un'altra E che è questa? La ceste delle carote d'oro Delle mele d'oro E degli incantesimi OP È anche un totem Ok Per favore Per favore te ne vai Un'altra Niente Un'altra Pozione di velocità 2 Questa me la prendo Potrebbe tornarmi utile Ehm Altra ceste Niente di utile Sbaglio Qui sotto c'è un altro piano Esatto Mi ricordavo bene Con le prigioni Dove nascondete i tesori Maledetti Eccolo Niente Ragazzi Mi sa che per oggi Mi fermo qui Le ho aperte tutte Ho aperto tutte le ceste esistenti O continuo con l'ender dragon E prima o poi me la dropperà Oppure continuo con i dungeon Non so quale dei due mi conviene sinceramente Il problema dell'ender dragon È che ci metto un bel po' a ucciderlo Perché non lo posso attaccare con la spada Ma devo attaccarlo con l'arco E i cristalli si rigenerano Quindi non è proprio la cosa più comoda del mondo D'altro canto però Nelle ceste non stiamo avendo molta fortuna Provo l'ultimo guarda Giusto per Tanto figurati se lo trovo nell'ultimo Non succede eh Ma se succede Ok questa è letteralmente l'ultima ceste E non l'abbiamo trovata Bene Ragazzi Ditemi nei commenti secondo voi Qual è il miglior modo per ottenere quella maledetta spada leggendaria Perché non vedo l'ora di battere il fallen icon Una volta per tutte E chissà poi questi Quanto saranno forti Restano gli ultimi tre Dai Ce la possiamo fare no? Forse Dal vostro imperatore è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao